Torna in Toscana la grande festa dell'estate con eventi, spettacoli, aperitivi e concerti, un'occasione per vivere la stagione più bella dell'anno che regione il quotidiano. La nazione salutano con il calendario di iniziative di Toscana Arcoblenio d'Estate, organizzato con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. L'appuntamento è dal 16 al 18 giugno prossimi con edizione La Quinta, dedicata al progetto Toscana Ovunque Bella per conoscere la regione attraverso uno sguardo insolito e inedito con il colvolgimento dei comuni. Quest'anno Arcoblenio è dedicata a Toscana Ovunque Bella, il progetto che ormai da un anno a questa parte ci ha accompagnato nelle nostre azioni promozionali, un progetto di valorizzazione territoriale molto riuscito che vogliamo utilizzare e valorizzare al meglio anche per Arcoblenio raccontando i territori della Toscana anche meno conosciuta. Io credo sia anche l'occasione per fare il punto sui dati positivi che rimergono dai dati dell'affluenza turistica in Toscana in questo primo scorcio del 2017. Forse la fortunata coincidenza dei ponti, forse la buona stagione, forse l'immagine della Toscana che devo dirlo si sta rafforzando ed affermando in maniera ormai costante in questi anni, ci fanno sperare bene. I dati premiano il lavoro fatto dai tanti imprenditori e premiano quello che stiamo facendo con Arcoblenio d'estate, la buona comunicazione perché si può avere un po' prodotto, si può avere terre appetibili, paesaggi splendidi, cultura invidiabile, ma se non la comunichiamo tutto questo non esiste. Intanto nell'Aditorium della Nazione a Firenze sono stati svelati i primi grandi eventi, tra questi il concerto di Raffa Via Reggio il 17 giugno e ancora l'iniziativa gastronomica a Monteriggiano e gli eventi che vedranno protagonista Siena. A Firenze invece apriranno le terrazze in veste arcobaleno degli hotel Lucchesi, Baglioni, Minerva ed Excelsior per una vista mozzafiato sulla città. Sempre nel capologo toscano spazio anche ad eventi luoghi esclusivi che saranno aperti in via straordinaria per la grande festa dell'estate toscana. Vogliamo dare una visione di Firenze diciamo meno conosciuta o perlomeno riservata a pochi, invece aprirla a tutti. Quindi le viste mozzafiato, meravigliose, uniche, delle più belle terrazze di Firenze che in questa occasione si aprono alla città, ai turisti attraverso iniziative importanti che sono legate alla possibilità di un aperitivo o a cena o comunque a musica, occasioni che comunque in questi tre giorni fanno vivere una Firenze poco vista, poco vissuta e che anche con luoghi istituzionali che ancora teniamo un po' riservati ma insomma sono posti unici, si apriranno proprio in occasione dell'estate arcobaleno per dare un'idea gioiosa, nuova, positiva di una Firenze vista dall'alto così come negli anni scorsi l'abbiamo fatta vedere ad alta quota con le Mongolfiere oppure la Firenze sull'Arno che sono contesti meno conosciuti ma estremamente suggestivi. La nazione ha voluto anche quest'anno esserci, ormai consideriamo l'arcobaleno un nostro evento, lo consideriamo un po' figlio nostro quindi vogliamo farlo crescere perché è un'occasione importante per tutta la regione per valorizzare le tante cose belle che ci sono in giro quindi insomma speriamo che continui questa crescita, che ogni anno aumenti l'attenzione, aumenti la gente, aumenti l'interesse, aumenti i nuovi eventi e sono sicuro che sarà così perché poi noi toscani all'inizio siamo sempre un po' diffidenti ma poi piano piano siamo gente intelligente e capiamo che questa è un'occasione per tutti. Toscana Arcobaleno d'estate è una festa aperta, hanno spiegato gli organizzatori, partecipare è semplice basterà infatti collegarsi al sito www.arcobaleno-destate.it e inserire direttamente online il proprio evento o la propria proposta o un'iniziativa di rete affinché la grande festa della Toscana turistica sia anche la festa di tutti i toscani. Grazie a tutti